Sono Cristiano, ho 47 anni e sono agente di commercio. Ho iniziato ad andare in moto a 16 anni. Sono andato in moto fino all'età di circa 27-30 anni, poi sono nate le bambine e ho messo tutto via. Le bambine iniziano ad essere grandi e l'anno scorso ho ricomprato la moto. Ho preso una BMW R850, tanto per iniziare, molto tranquilla, e da quest'anno però ho coronato il mio sogno e ho preso la GS. Un momento bello è sentire che negli esercizi, diciamo, nella pista, all'interno del campo, ci potevo riuscire e ci riuscivo bene. Da oggi mi porto dietro delle conoscenze tecniche non indifferenti e sicuramente quello che sarà il mio prossimo obiettivo è metterle sulla strada facendo un viaggio avventura. Grazie a tutti.